Infatti, quale grande nazione ha gli Dei così vicino a sé come il Signore Dio nostro è vicino a ogni nostra volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi enormi e giuste come è tutta questa legislazione che vi dico oggi? Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calugne con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Chi teme il Signore abitisce segnato! E la storia che tu fai, e la verola mi rende nella tua vita. Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua reclamenza, Signore, affinché questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di verità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con il suo figlio, in altri nostri cuori, e ci dimentiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente quanto buono e giusto, il nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre da ogni uomo a te, Signore Padre Santo, Dio all'Ipotenza. Grazie.